Uè, lesbiche, gay, bisessuali, transgender, non sono solamente alcune tra le chiavi di ricerca più frequenti nella cronologia notturna di un padre di famiglia che frequenta il Family Day, ma sono anche alcune tra le categorie identitarie che compongono il colorato mondo che ogni anno, a giugno, rivendica la propria posizione nel panorama sociale italiano durante il Pride Month. Ma quanti sono esattamente i coloro i quali si identificano come LGBT+, cosa ne pensano gli italiani, quali sono le percezioni che alleggiano attorno a questo mondo arcobaleno? Lo scopriamo oggi in un nuovo episodio della serie più amata dai feticisti del grafico a torta, Statistic HOTC! Fermi tutti! Prima di cominciare vi ricordo che A. Se non siete iscritti al canale potete iscrivervi, lasciare un mi piace o un commentino per spingere il video B. Potete trovare tutte le ricerche a cui faccio riferimento, linkate in descrizione C. Se volete supportare la mia propaganda gender pagata dai poteri forti potete inviare un bonifico al IT9146 Ma bando alle ciance, quanti sono in Italia e nel mondo gli appartenenti alla famigerata lobby LGBTQIA+. Difficile dirlo con certezza, perché ad oggi, purtroppo, i famigerati membri della lobby gender non vengono ancora marchiati a fuoco con un arcobaleno sul braccio come vorrebbero alcuni membri illuminati della nostra società. Quello che possiamo fare però è andare a rileggerci alcuni sondaggi che sono stati fatti in merito E in questo senso una serie storica che ha fatto molto rumore è quella sviluppata da Gallup e relativa alla popolazione americana dove è possibile notare una costante crescita della popolazione che si identifica come non-eterosessuale percentuale che ha raggiunto oggi una cifra tra il 7 e l'8% della popolazione Tra l'altro, piccola curiosità per condire Oltre la metà di questi si dichiara bisessuale, mentre solamente uno su tre è gay o lesbica A seguire troviamo poi i transgender e tutti gli altri Ma attenzione, perché è un dato molto interessante e lo troviamo se restringiamo la ricerca ai soli appartenenti alla generazione Z, nati tra il 97 e il 2003 Qui, infatti, ben il 21% di loro, uno su cinque, si dichiara queer, ovvero non strettamente eterosessuale Una percentuale ben tre volte superiore alla media generale E in Italia? Una stima ci arriva da una survey YouGov del 2021 che ha coinvolto diversi paesi in Europa e nel mondo L'Italia si conferma allineata alla media dei paesi sviluppati, con un 5% della popolazione che attualmente si identifica come appartenente alla comunità LGBTQ+. E attenzione, perché la tendenza delle nuove generazioni a essere molto più arcobaleno possiamo riscontrarla chiaramente anche in Italia Ad esempio con una rilevazione effettuata tra gli studenti delle scuole superiori del Lazio che ha portato alla luce un dato anche qui vicino al triplo rispetto alla media nazionale con un 14% di studenti queer, con una prevalenza in particolare delle femmine rispetto ai maschi ma in ogni caso ben superiore all'1 su 10 Altro dato interessante Più di un italiano su 4 afferma di avere amici stretti o parenti appartenenti alla suddetta comunità LGBT Il dato non è comparabile con gli altri paesi perché banalmente è influenzato dal numero di parenti e amici stretti e in Italia siamo parecchio compagnoni, si sa Ma quello che ci portiamo a casa da questa prima infarinatura generale è che volenti o nolenti ormai il gender faccia parte della vita di tutti i giorni Ah comunque ci avete preso ancora una volta amici della community del canale di Gross Sono commosso Iscriviti anche tu al canale per avere il privilegio di far parte di questa base statistica pagata da Soros L'orientamento sessuale si piazza al primissimo posto tra le discriminazioni maggiormente percepite dagli italiani superando pesi massimi del calibro del razzismo e della discriminazione su base territoriale Che secondo me è la vera specialità nazionale no? Quale paese può vantare così tante micro divisioni interne? Siamo tutti un po' razzismo Allora voglio dirlo anch'io Una volta per tutte Che cazzo di piatto tipico sono delle palle di pane in brodo I canederli immangiabili su Tirolo Vaffan... Ancora una volta i giovani si rivelano un campione decisamente più estremo della media nazionale Difatti per quasi un under 25 su 2 In Italia sono presenti discriminazioni e pregiudizi sulla base dell'orientamento sessuale Giovani under 25 Di cui ormai io non faccio più parte Se facciamo poi la stessa domanda non alla popolazione in generale Ma alla sola comunità LGBT E nello specifico a coloro i quali hanno contratto unioni civili Emerge il dato preoccupante secondo cui per il 95% degli intervistati Vi sia discriminazione nei loro confronti Molta o poca che sia Ma cosa significa essere LGBT in Italia nel 2022? E perché a spiegarvelo c'è un maschio etero bianco cisgender benestante che fa video su YouTube? La seconda domanda non ho una risposta Ma per la prima possiamo andare a rileggerci il suddetto sondaggio Istat somministrato agli LGBT Essere LGBT in Italia nel 2021 vuol dire incontrare ancora ostilità o rifiuto al coming out Da parte dei genitori Cioè delle persone che in teoria dovrebbero essere quelle che vi danno più affetto In ben un caso su 5 Essere LGBT vuol dire essere sempre a rischio discriminazione nel corso della propria vita In un caso su 2 all'università In un caso su 3 a lavoro o durante la ricerca dello stesso Essere LGBT in Italia vuol dire rischiare di veder compromessa persino la propria attività lavorativa Ad esempio un LGBT su 4 afferma di aver subito svantaggi Che siano relativi all'avanzamento di carriera All'apprezzamento delle proprie competenze O all'avere propria busta paga Un LGBT su 5 afferma di aver evitato di frequentare i propri colleghi per il timore di essere scoperto a Quasi 2 su 3 affermano di aver subito microaggressioni Cioè sfottò e battutine E ancora 1 su 5 subisce ostilità o ha subito vere e proprie aggressioni al lavoro Lo sottolineo si tratta di un sondaggio somministrato agli stessi appartenenti alla comunità LGBT Quindi da un lato non c'è il famigerato contraddittorio Ma dall'altro si tratta di esperienze dirette Quindi non riportate Scendendo più nello specifico Il clima di ostilità percepito dalla comunità LGBT Sfocia in larga parte in limitazioni autoimposte alla propria libertà Ma molto significative Ad esempio oltre 2 individui su 3 hanno evitato di tenersi semplicemente per mano Un gesto se ci pensate molto naturale e per nulla offensivo Altro che io che quando passeggio con la mia ragazza le suono come un bongo baritono il cu Ancora oltre un individuo su 2 ha evitato di esprimere il proprio orientamento 1 su 3 addirittura evita luoghi specifici Passando invece alle violenze esplicite Abbiamo che oltre un individuo su 3 abbia ricevuto offese Mentre tra il 3 e il 4% riportano aggressioni e minacce Che ovviamente non è una cosa positiva Però ti devo dire Vi devo dire Tanto male Pensavo peggio Ma trasferiamoci ora un po' all'esterno della comunità LGBT E andiamo un po' a vedere ad esempio che cosa si pensi dell'omosessualità E lo facciamo prendendo come riferimento una survey somministrata un paio di anni fa agli studenti delle superiori Quindi non si tratta di un cosiddetto campione rappresentativo della popolazione italiana Ma è comunque interessante andare a vedere quali sono i concetti che saltino fuori Allora innanzitutto per la maggior parte del campione l'omosessualità è un orientamento Mentre per una minima parte rappresenta una concezione negativa che si dirama in diversi aspetti Una perversione, una malattia, un peccato La porzione che però mi ha lasciato più sorpreso è quella che afferma che l'omosessualità sia una scelta Ma sì Oggi mi vanno le zucchine Continuando a buttare un occhio sui nostri figli Possiamo trarre altre considerazioni interessanti Innanzitutto Tra i giovani Continuiamo a vedere un progressismo molto spinto Indice di dove andrà il mondo mano a mano che moriremo noi cariatidi La stragrande maggioranza dei ragazzi è a favore del matrimonio gay Delle adozioni gay E alla lotta per i propri diritti da parte della comunità LGBT Dall'altra però Sono molto alti anche i valori di coloro i quali comunque preferirebbero non condividere i propri spazi con i membri della comunità LGBT E oltre due ragazzi su tre conoscono meno di cinque persone LGBT Quindi apertura sì Diciamo che c'è il riconoscimento razionale dei cosiddetti diritti LGBT Tuttavia non c'è integrazione Non c'è affinità tra chi appartiene alla sfera LGBT e chi no E attenzione non dobbiamo stigmatizzare non è una cosa propriamente negativa Nel senso anche io quando andavo alle superiori o anche adesso comunque La mia compagnia è composta principalmente da maschi ma non per questo io ad esempio odio le femmine Si tratta di affinità culturale comportamentale insomma È umanamente normale frequentare le persone con cui si è più affini E secondo me è anche giusto studiare qualsiasi fenomeno con onestà Senza le fette di prosciutto con gli occhi e senza negare i propri sentimenti e le proprie emozioni Continuando naturalmente poi a ragionare con la testa E dopo questo pippone mostruoso entro di diritto nella loggia dei vecchietti saccenti Dov'è il mio grappino? Chiudiamo il focus sull'Italia andando a vedere qualche dato specifico sull'attivismo LGBT in Italia Allora non commenterò l'ormai strumentalizzato, iperstagionato e ultradiscusso di DLZAN Mi limito giusto a dire che la popolazione media era largamente favorevole E che si può notare una scala fin troppo ridicolmente netta in base all'età Detto ciò, il Pride continua a dividere gli italiani A spaccare in due l'Italia quando se ne parla in generale Entrando invece nello specifico delle attività Vediamo come più di un italiano su 10 abbia attivamente partecipato ad un evento in supporto alla comunità LGBT Che è un valore interessante e da confrontare con il famoso numero stimato di persone LGBTQIA Più presenti in Italia, ve lo ricordate, il 5% Quindi vuol dire che per ogni membro della comunità LGBT Ce ne sono almeno due non LGBT che l'hanno comunque supportato nel corso delle proprie attività È un dato interessante perché se sa, sbattersi è sempre uno sbatti Sono un filosofo Il 7% ha preso parte a matrimoni gay Il 19% ha frequentato ambienti LGBT E quasi un italiano su quattro afferma di aver preso le parti di un LGBT discriminato nel corso di una disputa Importante e interessante Passando alla famigerata propaganda gender Quello che notiamo è un generale disinteresse da parte degli italiani Quasi la metà si riterrebbe fiera di lavorare per un'azienda LGBT friendly Mentre uno su tre si richiara più propenso ad acquistare prodotti da un'azienda LGBT friendly E uno su quattro a farlo in caso questa presa di posizione avvenisse con una campagna pubblicitaria Che è sicuramente un po' riduttivo da affrontare Con una singola domanda era sì o no come tema Però ci porta a due riflessioni interessanti La prima è l'attenzione al cosiddetto rainbow washing Attenzione, voglio il riconoscimento della paternità della parola se diventerà di dominio pubblico Cosa voglio dire? Fare attenzione alle aziende che lo fanno perché realmente interessate al tema E a quelle invece che lo fanno per cavalcare il trend e incrementare le proprie vendite Come il green washing, stavolta il rainbow washing Dall'altra ci portiamo la riflessione che in realtà gli italiani sono piuttosto freddini Quando si parla di driver di scelta Anche in questo caso come la sostenibilità Nel senso, sì, si riconosce la discriminazione Si riconosce magari che ci debba essere un miglioramento Però poi non rappresenta un driver di scelta Cioè nel senso frega poco a chi non è del settore Come la sostenibilità Magari ci farò un video prima o poi, è interessante come cosa Parlando poi di media veri e propri Quasi due italiani su tre affermano che gli atleti dovrebbero poter essere liberi Di esprimere il proprio orientamento sessuale E più di un italiano su tre afferma di volere una maggior presenza di personaggi LGBT In tv, film e pubblicità Se foste arrivati a questo punto Perché mi sa che sta uscendo una puntata lunghetta Anzi extra long Allora direi di chiudere la puntata con un confronto tra l'Italia e gli altri paesi nel mondo Su alcune tra le tematiche care all'ideologia gender Ma prima di questo Scrivetemi il vostro salume preferito nei commenti So che può sembrare una cavolata eh Però allora Da un lato è un argomento molto serio Molto più dell'ideologia gender Dall'altro ho notato che aiuta a spingere il video su YouTube Quindi fatelo, grazie Cominciamo con una bella mappetta che ci mostra Come per altre tematiche Che l'Italia rappresenti l'anello di congiunzione Tra la mentalità occidentale progressista E quella orientale conservatrice Il parere sull'omosessualità è di fatto positivo Se guardiamo i valori assoluti Con tre italiani su quattro Che dichiarano che dovrebbe essere comunque accettata Si può fare sempre meglio Ma vediamo che si può fare anche peggio Anche Eurobarometer ci mette più o meno nella stessa posizione Al primo posto tra gli ultimi All'ultimo posto tra i primi Siamo il sassuolo delle nazioni Lottiamo per la metà classifica Entrando invece nello specifico dei diversi quesiti Che tanti enti hanno posto alle popolazioni negli anni Possiamo trarre diverse conclusioni Innanzitutto il coming out Se vi ricordate La comunità LGBT parlava di aver ricevuto un rifiuto in un quinto dei casi Il dato è abbastanza confermato Nel senso che in generale si parla di volontà di supporto incondizionato Nell'80% dei casi Ma possiamo notare come in questa specialità Siamo messi in realtà piuttosto bene Se comparati con le altre nazioni Cosa mi porto a casa? È che per l'Italia la famiglia Prima di tutto L'affetto prima di tutto Nel senso Li discriminiamo Non è una cosa bella Però quando poi la cosa ci tocca in prima persona Siamo un popolo molto caldo Molto affettuoso no? Difatti se invece andiamo alla visione generale delle varie tematiche Tutta questa apertura non c'è Partiamo dal matrimonio Dove comunque ci sono più individui a favore che contro Come in ogni ambito Come vedremo in questo caso 63% contro 30% Siamo lì però Nel medione Adozioni Il 59% è a favore Il 36% è contro Siamo sempre lì Comunque la maggioranza Vede le adozioni gay Di buon occhio Però se guardiamo alle altre nazioni Siamo a livello dell'Ungheria Per dire Passiamo a crescere i figli Ok? L'abbiamo adottato Ora li cresciamo Anche in questo caso Il 63% è a favore Il 33% è contro Ok? Passiamo a tematiche legate all'istruzione Il famigerato gender nelle scuole 56% a favore Quindi oltre la metà della popolazione 38% contro Però siamo sempre lì no? Un po' in fondo Riconoscimento legale dei transgender Qua addirittura le percentuali sono pressoché identiche Il 43% è a favore Il 42% è contro Quindi tralasciando che le ultime due rilevazioni risalgano al 2019 Quindi guardando un po' il trend Probabilmente la forbice si sia allargata un pochettino nel frattempo Quello che mi porto a casa è la fotografia di un paese Che timidamente si affaccia al progressismo Quindi c'è una lenta spinta portata dalle nuove generazioni Però il retaggio culturale è ancora forte Una cultura fatta di famiglia Di bambini Di istruzione Di protezione Di timida Timida progressione Ma piano 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 Una propensione al cambiamento Quindi molto piccola Ma nel bene e nel male Nel senso poi ognuno la vede come vuole Io riporto un po' quelle che sono le mie sensazioni Naturalmente lasciando trasparire quella che sia la mia posizione a riguardo Non sono un giornalista Posso permettermi di farlo Bene! Vi ho ammorbato abbastanza Temo sia diventata una puntata abbastanza lunghetta Se vi piacciono i miei contenuti Provate a guardarvi un po' Cosa altro c'è sul mio canale Iscrivetevi Lasciate un mi piace Le solite cose che aiutano a spingere il canale A crescere A farmi diventare ricchissimo Questo era il terzo video legato al mese del Pride Probabilmente già la settimana prossima Ricomincerò a parlare di altre tematiche Spero comunque questa piccola parentesi vi sia piaciuta Vi saluto Vi do appuntamento alla prossima puntata Ciao!